C'era una volta, sulle alli del vento, un'aquila. Questa è la sua storia e quella di un ragazzo. Abel, sei stato bravo! C'è un film scurrivo, un film horror, ma anche a molti film documentari, perché si apprende molto a loro, sai? C'è un film scurrivo e tutto questo tipo di cose. Per me è molto importante perché credo che puoi imparare molto sui animali. Ci hanno insegnato molto sui reali, che magari non vedi per persone normali. C'è un film scurrivo. Io amo animali, perché credo che sono davvero speciali. Credo che ci aiutano e ci aiutano molte persone. Credo che sono molto importanti per noi. C'è un film scurrivo. 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 E' un film scurrivo. C'è un film scurrivo. C'è un film scurrivo. E ne ho scurrivo molto sui film. C'è un film scurrivo. Ma magari continuo con un film. Non so se vuoi essere un giornalista. Per il problema di tutto il mondo. Non lo so. Sì. Grazie. Abel, il figlio del vento. Ho trovato un amico Credo sia lui ad aver trovato te